Esistono almeno 5 tipi di personalità che le persone adorano, e se sei in grado di capire quale corrisponde meglio al tuo modo di essere, sarai in grado di accedere alla versione più sicura e carismatica di te stesso. Ma devi anche essere consapevole che ognuna di queste tipologie presenta un'insidia comune che ti può far correre il rischio di allontanare le persone da te. Ecco perché in questo video ti aiuteremo a comprendere quale tipo ti si addice meglio e vedremo anche quale insidie dovrai evitare. Il primo tipo è quello divertente, se sei così, piaci alle persone perché le fai ridere. Ma ovviamente i tipi divertenti non devono sempre essere positivi e allegri, a volte i loro scherzi sono anche sarcastici. E a volte i tipi divertenti possono persino prendersi gioco delle persone. Ora, anche se tutto questo stuzzicare può spingere gli altri ad apprezzarti, devi far attenzione a non far diventare le persone il bersaglio dei tuoi scherzi troppo spesso, perché questo, a lungo andare, le farà allontanare da te. Ad esempio, guarda Russell Brand mentre prende in giro Emily Blunt in questa prossima clip. Per un tipo divertente questa potrebbe sembrare solamente una battuta innocua, ma il modo in cui Emily si mette sulla difensiva suggerisce di esserci rimasta male, in realtà. Per cui, se sei un tipo divertente e vuoi farlo senza offender le persone, la cosa principale su cui concentrarsi è fare battute in cui cerchi di valorizzare l'altra persona. Guarda qui. Se riesci ad assicurarti che metà o più delle tue battute includano un complimento per gli altri, puoi usare tranquillamente la provocazione e il sarcasmo, senza preoccuparti di ferire i tuoi amici. E questo ci porta alla seconda tipologia, quella energica. Il tipo energico è quello che dà importanza all'entusiasmo. Se sei una persona che entra in una stanza e comunica un'energia positiva, ottimista, e sfrutti un linguaggio fisico, sei una di queste persone. E probabilmente hai rotto numerose norme sociali senza accorgertene, dando grandi abbracci, battendo il 5, in situazioni in cui la maggior parte delle persone si limiterebbe a presentarsi silenziosamente e sedersi. Puoi rendere felice un'intera stanza semplicemente con la tua presenza. Ed è probabile che le persone ti trovino divertente, ma potrebbe non essere per la sagaccia posseduta dalle persone del primo tipo di personalità. Il tuo modo di fare, come i suoni che fai o i gesti delle mani che usi quando racconti una storia, fanno parte del tuo fascino particolare. E ancora, a differenza del tipo divertente, potresti tendere all'uso della fisicità per raccontare una storia e usare delle imitazioni piuttosto che un umorismo un po' sofisticato. Ma ovviamente ci sono dei lati negativi anche di questa personalità. Prima di tutto, le persone potrebbero pensare che tu sia poco profondo e potrebbero faticare nel trovare una connessione con te. E secondo, puoi sembrare troppo fiero di te se non fai altro che essere rumoroso e attirare tutta l'attenzione su di te. Per cui, se hai una personalità energica, devi aggiungere alcuni aspetti della prossima personalità per fare in modo che le persone amino davvero stare con te per lunghi periodi di tempo. E si tratta della personalità empatica. Se sei così, dai valore alle connessioni con gli altri sopra ogni altra cosa. Riesci a fare in modo che gli altri si aprano e diventino vulnerabili con te, perché tu stesso sei aperto e vulnerabile. Lex Friedman è un ottimo esempio di questa personalità. Se sei così, potresti essere più introverso e tranquillo rispetto alle altre personalità. Ma quando sei con gli altri, il tuo contatto visivo, le domande profonde e l'ascolto attento li faranno sentire a proprio agio e del tutto accettati. Forse rifletti persino i sentimenti delle persone verso di loro, in un modo che le fa sentire del tutto comprese. E Oprah è una maestra in tutto ciò. People think, for example, oh, I want to be famous or I want to be able to sing or I want to, like for you, I want to be able to act. What you really wanted was to be able to use your voice. Yes, 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 yes. And so... I don't want, I mean, I don't want the black people to be disappointed in me for putting that out there. No, you don't want to be disappointed in yourself. You know what, Oprah? You're right. Ora, queste personalità basate sulle connessioni sono fantastiche in relazioni one to one. Probabilmente vai alla grande in quelle situazioni. Il problema è che sei consapevole che è molto facile per le persone ignorarti in situazioni sociali con più persone. Quindi devi sviluppare alcune abilità del prossimo tipo di carisma, così che tu possa brillare veramente in questi contesti più ampi. Passiamo quindi al quarto tipo, che è l'opposto delle personalità basate sulla connessione, ed è la personalità sicura di sé. Se sei così, sei estremamente sicuro nelle tue convinzioni. Le persone vogliono seguire il tuo esempio, perché dimostrano una sicurezza estrema in ciò che stai dicendo. Molte persone sono insicure, insicure dei loro valori, del loro futuro. Quindi gravitano verso quelle persone che sembrano sapere esattamente chi sono, cosa vogliono e cosa accadrà. L'insidia di questa tipologia è che spesso si possono perdere opportunità di crescita perché si è così certi che le cose andranno come le hai immaginate, che potresti ignorare le tue debolezze e minimizzare la competizione. Quindi, anche se potresti sembrare un fenomeno quando va tutto bene, la realtà potrebbe abbatterti perché nulla è certo e il karma può colpirti duramente. Ecco perché, se propendi verso questa personalità molto convinta, è meglio mettere a riposo quella convinzione, che non può garantirti risultati specifici, ma può garantire il tuo continuo impegno. Questo ci porta all'ultimo tipo di personalità, quello autentico. Se sei così, l'onestà, essere reale, è ciò che conta per te. E ciò che è interessante è che le persone potrebbero non apprezzarti fin da subito. Potresti andare incontro ad un conflitto che la maggior parte delle persone eviterebbe e condividere, magari, la tua opinione onesta quando sai che l'altra persona non è d'accordo, come fa Joe Rogan qui con un commentatore politico contrario al matrimonio gay. Penso che la maria sia una cosa certe, che è il contesto per la procreazione, per la stagione della famiglia nucleare. Che per le persone che si casano che non hanno bambini? Sei opposito a questo? O potresti anche andare dritto al punto con un umorismo strano che l'altra persona forse non comprende, ma senza che tu ti accordi. Se sei così, la buona notizia è che le persone non ti apprezzano perché ogni singolo momento è meraviglioso, ma perché rispettano la tua onestà. Non stai cercando di piacere alle persone e questo le fa rilassare in tua presenza. Possono percepire che non stai cercando la loro approvazione, quindi possono fare un respiro profondo. Il rischio qui è che se sei solo autentico e ignori tutto il resto, potresti dominare la conversazione parlando solamente di cose che interessano a te. Una delle ragazze per cui i chimpi attacchano le persone è perché se le persone diamo qualcosa a qualcuno e non lo diamo a loro, hanno un vero senso di verità. L'evilità, brutta, brutta, brutta. Vedi quella brutta brutta in chimpanze? Immagina di essere qui nel supermercato e hai i tuoi bagni, si muove in tuo caro e e vedi tre chimpi attacchano a te. Oh no! Quindi, se sei così, naturalmente, vuoi mettere l'autenticità al primo posto. Ma le buone maniere sociali devono arrivare subito dopo. Una cosa che può aiutarti in questo senso è fare una pausa appositamente nelle conversazioni per creare spazio per l'altra persona affinché possa reinserirsi nell'argomento che stai seguendo con passione. Ovviamente lo scopo di questo video, lo scopo di identificare questi tipi di personalità non è dire che uno è meglio degli altri. L'obiettivo è darti la possibilità di orientarti verso il tipo di personalità che meglio si adatta a chi sei e non copiare quello che fanno gli altri. Quando lo fai, irradierai la tua fiducia naturalmente e sorprenderai le persone perché è qualcosa di specifico e molto personale. E se credi di aver capito lo stile che più si avvicina a te e vuoi sfruttarlo al massimo, potresti voler partecipare al nostro corso, la Carisma University. È un programma guidato passo per passo di 30 giorni che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza. Come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno e avrai anche a disposizione dell'action guide così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale, con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderei di entrare nella Carisma University avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrei andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche, ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice Ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice Mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio.